Sono Orazio Ferniani e sono qui per raccontare alcuni episodi che mi hanno riguardato personalmente e che mi hanno indotto a perseguire una strada di conoscenza che prima non avevo. E quindi faccio riferimento a solo due brevissimi episodi stringatissimi che appunto sono emblematici di come le banche si comportano da sempre. Ricordo l'episodio che riguardava i miei bisnonni che erano esportatori, uno dei principali esportatori negli Stati Uniti, di canapa coltivata nel delta del Po dove esercitavano questa tradizione di lavorazione della canapa che principalmente esportavano negli Stati Uniti e a causa del venerdì nero del 1929 ad un certo punto è crollato il mercato americano, siamo stati costretti a immagazzinare questa canapa, il magazzino ad un certo punto è andato a fuoco, la compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto rispondere in quella situazione ha preferito fallire piuttosto che pagare i miei bisnonni. La cosa più o meno analogo è successa a me nel 1989-90 quando a un certo punto lavoravo con 5 banche, con una di queste banche avevo 20 milioni di fido, il direttore di questa banca mi disse se volevo espanderla a 100 milioni qualche settimana prima di Natale, 40 giorni dopo per vari motivi troppo lungo a spiegare mi sono dovuto andare a piegare, di chiedere appunto questo extra finanziamento di 100 milioni e il direttore del banca mi disse che io non ero più affidabile e non solo non mi ha dato i 100 milioni ma i 20 milioni sono diventati in 5 anni 65 milioni, cosa per cui mi sono dovuto vendere un immobile. Queste esperienze mi hanno forgiato nella convinzione dell'assurdità di comportamento e illegalità del comportamento delle banche e me lo sono andato a studiare a fondo e quindi oggi posso fornire a voi delle soluzioni inopinabili. Lo strumento che propongo è la cambiale sociale che ha una origine legale e legislativa antica come appunto la cambiale tradizionale che tutti dovrebbero conoscere e che ha avuto la sua origine con la Convenzione di Ginevra del 1930 ratificata dal governo italiano tramite il reggio di decreto del 1699 del 1933. Perché parlo di cambiale sociale e di cambiale in generale? Perché il codice civile italiano prevede che i debiti e qualunque adempimento di pagamento in generale va pagata in moneta contante e non con carta di credito, per esempio, o bitcoin che volete chiamare, black chain, eccetera. Sì, una volta, quando ancora avevano ragione giuridica, il debito o la cambiale andava pagata in banca e si pagava attraverso denaro contante. Oggi la funzione del denaro contante è stata sminuita da una serie di accordi internazionali che è troppo lungo qui ad esaminare, ma che hanno praticamente svilito il concetto di moneta mentre viceversa il concetto di cambiale nel corso del quasi secolo di esistenza della Convenzione non è cambiato assolutamente in nulla e oggi possiamo formalmente e legalmente utilizzare la cambiale per qualunque tipo di pagamento, non soltanto nel concetto di pagamento dilazionato nel tempo, ma anche come pagamento attuale. e arrivo, diciamo, al dunque. Quindi, attraverso la cambiale è possibile pagare qualunque tipo di bene, manufatto, prodotto, prestazione, eccetera. Perché? Perché, ricordiamoci sempre, che fin dall'origine la cambiale è un titolo. Il titolo è, per esempio, il titolo di possesso dell'automobile. Se voi volete vendere l'automobile, non potete venderla se non avete l'attestato di proprietà. Ed è quello che determina appunto il fatto che l'automobile è vostra. E quindi, in quanto vostra, voi potete, diciamo, utilizzarla in qualunque modo anche vendendola. Quindi, il titolo è una rappresentazione del valore. In particolare, la cambiale sociale, la cambiale in generale, è un titolo di portatore. Cioè, praticamente, è qualcosa che può navigare all'interno della società girando ininterrottamente per tutto il tempo che uno vuole fino al momento della data di scadenza. Questo per capire, insomma, che è un titolo legale, perfettamente utilizzabile, da chiunque, non solo in Italia, ma in 41 paesi al mondo ed è quindi anche una moneta o un titolo internazionale. La cambiale sociale deve integrarsi in un sistema in cui, negli scambi negoziali, è previsto il pagamento contante o quello che poi va oggi per la maggiore, il pagamento attraverso bonifici bancari o altre formule alternative, come anche il bit o il bitcoin, come li volete chiamare, e altro ancora. Quindi, la cambiale sociale si deve innestare in questo circuito e può farlo serenamente perché non intacca niente, nessuna modalità primaria che possa in qualche modo limitare o evitare di creare alternative non tollerabili per il sistema nel suo insieme. È il caso di incominciare a entrare un po' più nel merito e quindi incominciare a dare una definizione un po' più precisa del concetto. E cioè, intanto, bisogna dire che la cambiale sociale è prevista in due forme diverse. una da utilizzare consumer to consumer, cioè da privato cittadino a privato cittadino o da privato cittadino ad azienda o anche da azienda a privato cittadino mentre c'è un'altra cambiale sociale che si chiama cambiale sociale privilegiata che è quella che utilizzeranno le aziende tra di loro. le partite IVA, l'attività economica industriale o commerciale la differenza è notevole, la differenza tra quella cambiale sociale ordinaria e privilegiata è veramente notevole per una serie di motivi. Allora, intanto la cambiale sociale ordinaria è un titolo a demurage cioè a depreciamento costante. Perché? Perché come altre precedenti formule immaginate da vari economisti del passato prevedevano, come ad esempio Silvius Gessel, che prevedeva la necessità di uno scambio veloce per enfatizzare e creare un volano ampio di trascinamento dell'economia statica oramai moribonda nelle situazioni in cui si è imposta questa necessità. e anche adesso, visto l'economia moribonda che stiamo osservando in questi ultimi tempi è necessario uno stimolo, una specie di iniezione di vitamine in questo caso. e quindi la cosa essenziale da fare è quella di stimolare il cittadino che magari è anche in difficoltà per altre ragioni a utilizzare la cambiale sociale per non farla decadere di valore il mese successivo. quindi la cambiale sociale parte, per fare un esempio, da 100 euro il mese dopo 98, il mese dopo ancora 96 e così via. Quindi il meno rimane in tasca dei cittadini è meglio. Ma la cosa da ricordare sempre è che la cambiale sociale è regalata, è fatta a credito e non a debito, cioè ognuno di noi si fa il credito in base a quei paradigmi, a quei riferimenti che appunto avevamo accennato prima. Diciamo che questa è la caratteristica sostanziale. Le altre caratteristiche, diciamo invece, ancora più peculiari delle cambiali sociali privilegiate, cioè quelle che utilizzano soltanto le aziende con altre aziende partite IVA con partite IVA. Queste aziende integrate nel circuito di circolazione della cambiale sociale privilegiata che è diverso dal circuito di circolazione della cambiale sociale ordinaria sono, diciamo, confinanti, sono aderenti l'uno all'altro ma in due campi abbastanza diversi per cui la cambiale sociale privilegiata è una formula di pagamento attraverso il quale si, diciamo, estinguono i debiti contratti da aziende verso aziende. Nel caso specifico, per entrare nel circuito della cambiale sociale occorre rispondere ad alcuni requisiti e cioè bisogna essere una società che sia società, azienda individuale o meno, cambia poco. Quello che conta è che si svolga un'attività commerciale con partita IVA o un'attività industriale o di qualunque altro genere di trasformazione comunque con partita IVA. Perché? Perché nel momento in cui gli incaricati alla vendita della contrattualizzazione delle aziende cosa che è una formula di rito obbligata e di creazione di nuovo lavoro per quelli che cominceranno a fare questo tipo di attività questi signori saranno una specie di ispettori finanziari, diciamo così, fiscali cioè entreranno nelle aziende, valuteranno una serie di parametri i quali i crediti presso i clienti, il magazzino, lo storico del fatturato anno e una serie di altri elementi che permetteranno a costoro di concedere un fido o meglio alle aziende di concedersi un fido tra di loro perché quel fido non lo affidiamo noi come associazione o come Alba Mediterranea o il comune o chi sia ma sono le aziende che partecipano a quel circuito che l'una con l'altra si daranno fiducia ed affidamento e quindi fido quindi questo per dire un elemento essenziale che contraddistingue appunto la cambiale privilegiata con quella ordinaria altro elemento importante è che mentre la cambiale sociale ordinaria decade del valore ogni mese del 2% viceversa la cambiale privilegiata non ha interessi positivi per chi la emette o negativi per chi la emette ma rimane staticamente sempre dello stesso valore nel corso degli anni dura 5 anni e alla fine del quinto anno deve ritornare ai due contraenti del contratto negoziale per rinnovarla automaticamente e senza condizioni ulteriori di nuovo per altri 5 anni in modo che praticamente questa cambiale non vada mai al pagamento in banca ma e neppure al pagamento di altre modalità inventate che in qualunque modo possono fare le banche o le finanziarie o altro organicamente affini al sistema finanziario mondialista la cosa importante quindi è che va rinnovata per accordo contrattuale e praticamente non va mai in pagamento e quindi diventa di fatto un veicolo che gira istantaneamente appunto perché viene contraddistinta con il pagamento a medesimo significa che il portatore di quel titolo è il titolare di quel titolo il proprietario di quel titolo e quindi lo paga a se stesso e mutuandolo con qualcun altro successivamente lo trasferisce all'altro che lo porta all'altro portatore cercherò di essere quanto più schematico possibile compatibilmente con le problematiche che ovviamente si devono affrontare quando il tema è così complesso dunque la candela sociale principalmente è uno strumento per ovviare alla partecipazione delle banche all'economia individuale e sociale in generale quindi questo punto di partenza prevede la partecipazione di tre elementi soltanto rispetto a prima che erano di più appunto l'emettitore quello che accetta da cambiale è l'organo di controllo tutti e tre devono far parte di un circuito a cui si aderisce volontariamente in maniera gratuita pagando con una cambiale sociale ma la cambiale sociale poi vedremo che non è esattamente qualcosa di pesante da ottenere qualcosa di molto facile perché è convenzionalmente sociale quindi avendo il vantaggio della partecipazione sociale hanno una lieve incidenza sull'individuo e sulla persona singola nello specifico quindi bisogna partecipare a questo circuito e riuscire all'interno di questo circuito a creare un vortice economico la cambiale sociale è stata studiata per creare un turbinio una necessità impellente di creare negozi giuridici in continuazione proprio per creare questo volano economico di cui avevamo accenato prima quindi all'interno di questo circuito che viene creato per il libero scambio all'interno di esso partecipano l'emettitore e il recettore e il controllore che è Superpartes la cambiale viene compilata in tutte le sue parti debitore, importo, dalle di scadenza indirizzo di pagamento e così via e la cosa importante è che all'interno di questa triplice intesa fra l'altro ricordando la triplice intesa chissà perché mi è venuto in mente questo praticamente nessuno è responsabile in maniera diretta ma tutti nel gruppo tutti e tre sono responsabili per il buon andamento della cambiale sociale diciamo fra le tantissime sfaccettature che bisogna cogliere per avere pieno il concetto della cambiale sociale occorre appunto esaminare l'aspetto sociale della messa diciamo a regime della cambiale sociale e cioè l'aspetto ridistributivo cosa che oggi più che mai è stato annullato dalla finanza internazionale oramai praticamente quasi tutta la ricchezza mondiale è detenuta dall'1, 2, 3, 8% quello che sia ognuno ogni tanto dice una cosa diversa ma con pochissimi persone individui o società associazioni di vario genere che detengono la massima quantità del valore prodotto mondialmente e questo anche in Italia ovviamente bisogna ricordare che uno degli elementi importanti della nostra civiltà è la condivisione è la ridistribuzione non solo delle informazioni della cultura della conoscenza eccetera ma anche della creazione del valore che viene creato all'interno degli stati la cosa importante da dire è che noi abbiamo denunciato già oltre 10 anni fa è che i più grandi evasori mondiali sono personaggi molto conosciuti in particolare sono le banche le banche italiane evadono al fisco circa 900 miliardi l'anno a calcolo 2010 che hanno ovviamente dal loro punto di vista pensato bene di convogliare negli paradisi fiscali ecco basta solo fare un calcolo semplice di 900 miliardi ridistribuiti sul territorio italiano e sapere quale quantità di spesa pro capite potremmo avere ciascuno per incrementare appunto la richiesta di domanda interna e quindi produrre ancora maggiore ricchezza andando ad esaudire questa possibilità amplissima di assorbimento di nuove professionalità nuovi manufatti e così via quindi da una parte c'è l'aspetto puramente fiscale finanziario monetario e dall'altra c'è l'aspetto puramente etico morale e sociale e quindi questo è noi ci troviamo di fronte quindi a qualcosa che già esiste non è che la cambiata sociale nasce da nulla nasce dalla contabilizzazione di questa massa enorme di ricchezza che viene diciamo drenata dal circuito nazionale e portata a capitalizzare nei paradisi fiscali basterebbe rimettere nel circuito della capacità di spesa delle famiglie e degli individui questi 900 miliardi l'anno e il problema della crescita o della decrescita o della dell'ampasse in qualunque punto di modo vogliamo vederlo andrebbe immediatamente a farsi friggere e quindi ecco questo è il concetto occorre quindi ridistribuire questa ricchezza assorbita dalle banche nel corso dell'anno per creare delle nuove richieste di esaudimento delle necessità personali o collettive quindi ecco in questa fase va considerato anche questa sfaccettatura da cambiare sociale escludiamo dal circuito economico in tutte le sue fasi le banche e le finanziarie e diciamo tutto quello che è il reggimento diciamo la filiera di ruoli che coesistono nel sistema diciamo bancario quindi il primo fatto sostanziale è questo cioè escludere le banche dal circuito gestito attraverso la cambiare sociale stata fatta volontariamente e ideata per essere qualcosa di orizzontale e di non creare disparità di valore all'interno di questo concetto della cambiata sociale fra cittadini e anche possibili ruoli superiori qui non ci sono ruoli superiori da parte di nessuno e di niente ognuno è uguale all'altro sotto il profilo della cambiata sociale ovviamente non ovviamente rispetto alle capacità individuali le virtù che ognuno ha o alle tare che ognuno ha quelle sono cose di altra argomentazione che in questo campo qua non c'entrano in nessuna considerazione ci saranno diciamo originariamente delle convenzioni che verranno stabilite dai partecipanti stessi all'interno del circuito che diciamo obblicheranno i partecipanti al circuito ad attenersi a determinate norme determinati obblighi e determinati modalità di comportamento la cambiata sociale può essere utilizzata da qualunque tipo di contratto sociale contratto negoziale sia individuale che sociale per esempio un'altra cosa che non ho detto in altre occasioni è che la cambiata sociale può anche essere cooperativa nel senso che alcune persone si aggregano in un progetto di qualunque genere e ognuno di loro può integrare quelle mille euro di cui detiene il possesso impegnandosi anche per i mesi successivi o per gli anni successivi per cui non è detto che diciamo in un determinato momento in cui si prospetti la necessità di avere un capitale o una capacità di spesa maggiore questo non sia fattibile attraverso l'impegno ad agire a fornire il contributo a quell'impresa che si decide di fare occorre dire che in una società ampia e evoluta come la nostra la ricchezza e quindi diciamo i vantaggi che la distribuzione di questa ricchezza porta è appunto implicita nella distribuzione e nella solidarietà sociale del contesto per cui può accadere ad esempio che un handicappato scusate l'espressione ma così si capisce totale che non ha nessuna capacità creativa di nessun genere incapace di intendere di volere però necessitato di avere diciamo assistenza da parte di un'assistente sociale di uno psicologo che ne so di un abbadante 24 ore su 24 crea induce creazione di necessità e quindi anche di risoluzione delle problematiche create da queste esigenze attraverso la creazione di lavoro per altri che partecipano a questo gruppo a questa società a questo circuito alla società italiana in generale ecco quindi non è importante contraccambiare ma quello che è importante è creare o indurre necessità di lavoro a questo Grazie.